non si ferma nemmeno a natale nicola porro e festeggia il 25 dicembre con un piccantissimo commento video alla manovra licenziata dal governo di centrodestra guidato da giorgia meloni e approvataia camera poche ore prima dopo un dibattimento fiume a monte citorio per il conduttore di quarta repubblica la legge di bilancio targata meloni è una manovra che non vale nulla per due terzi è sulle bollette la mancanza di fondi e risorse e la drammaticità di una situazione da tamponare con assoluta emergenza sono senza dubbio alibi a favore della nuova maggioranza chiamata a formulare una finanziaria in un mese di tempo per non arrivare all'esercizio provvisorio che avrebbe di fatto ingessato l'italia per i prossimi 12 mesi ma questo non basta spiega porro perché resta il vizio di fondo che accomuna tutta la politica italiana in uno stato che spende mille cento miliardi ogni anno dovrebbe esserci una regola sacrosanta ridurre la spesa siamo dei drogati attaccati alla mammella dello stato ognuno di noi becca qualche piccola elemosina di spesa pubblica quindi i crudi dati nero su bianco tanto sconcertanti quanto immutabili anzi peggiorati di anno in anno finanziaria dopo finanziaria a fronte di 1.700 miliardi di pil 2700 sono i miliardi del debito pubblico e 1 100 quelli della spesa pubblica siamo dei pazzi ci hanno distrutto tutti da berlusconi al pd fino alla meloni vogliono solo finanziari e le proprie proposte spendiamo per tutto per le pensioni per la sanità per i sostegni alla cultura e per quelli alle imprese per l istruzione pubblica per gli ospedali grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti